E' arrivata la nuova versione di Google Chrome che promette una velocità ed un livello di sicurezza mai visti prima, a patto però di configurarlo correttamente. E allora andiamo a vedere come impostarlo e soprattutto come aggiornarlo. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va! Lo sapevi che un Google Chrome ben configurato, oltre a diventare più veloce e più sicuro, rende anche più veloce e più sicuro il tuo stesso PC, facendogli da un lato risparmiare risorse e dall'altro impedendo l'accesso di pericolose minacce online. Ma la cosa più bella è che per farlo bastano letteralmente 4 click. E allora andiamo subito a farli questi 4 click, ma prima di tutto accertiamoci di avere l'ultima versione aggiornata di Google Chrome. Per farlo apriamo il nostro browser, andiamo qui in alto a destra sui tre puntini verticali e scegliamo la voce guida, questa qui. Dopodiché clicchiamo su informazioni su Google Chrome e vedrai che partirà automaticamente l'aggiornamento di Google Chrome che lo porterà all'ultima versione disponibile. tieni presente che una volta terminato l'aggiornamento ti converrà cliccare sul pulsante riavvia come sto facendo io in questo momento. Ecco fatto. Quello che dovremo fare a questo punto è verificare di avere installato l'ultima versione, ovvero questa qui, la 133.0.6.9.4.3.1.4.2. Se la versione corrisponde oppure è superiore sei a posto e possiamo andare avanti. Quello che faremo adesso sarà spostarci nuovamente sui tre puntini in alto a destra, cliccarci su e scegliere invece questa volta la voce impostazioni. Al suo interno ci sposteremo sul lato sinistro sulla voce di menu che si chiama privacy e sicurezza. Clicchiamoci su e vedremo che ci sono due cose che ci interessano molto. La prima è la guida alla privacy e la seconda il controllo di sicurezza. Facciamole una alla volta. Per iniziare clicchiamo sul pulsante come iniziare, dopodiché clicchiamo sul pulsante avanti e andremo ad attivare questa voce qui, migliora le ricerche e le attività di navigazione che migliorerà la velocità del nostro browser. Clicchiamo sul pulsante avanti e andiamo ad attivare la protezione avanzata che ci protegge in tempo reale da estensioni, siti e download pericolosi. Facciamo clic e scendendo un po' nella pagina clicchiamo ancora sul pulsante avanti. In questa finestra andremo a bloccare tutti i cookies di terze parti per migliorare la nostra privacy. Clicchiamo ancora su avanti e quindi clicchiamo sul pulsante fine. Allo stesso modo andremo a cliccare sul pulsante vai al controllo di sicurezza che ci fornirà un quadro sinottico sulla sicurezza del nostro pc. Tutte quante le opzioni correttamente configurate verranno contrassegnate da un badge di colore verde, quelle dubbie da un pallino di colore grigio con una i, in questo caso c'è scritto semplicemente che non ho salvato nessuna password su questo browser e ancora se dovesse esserci qualche voce problematica verrà contrassegnata da un pallino giallo con un punto esclamativo nero al centro. In caso di problemi ti basterà cliccare sulla relativa voce e verrai automaticamente trasportato alla pagina delle impostazioni concernente il problema in modo che tu possa effettuare le opportune correzioni. Ma non basta perché ci sono un altro paio di impostazioni che vorrei farti ritoccare prima di passare a quelle nascoste. Clicchiamo quindi sulla voce prestazioni per andare a modificare il risparmio memoria. Andiamo quindi ad attivare questo flag, dopodiché sceglieremo il risparmio di memoria massimo. Questo è particolarmente vantaggioso sulle macchine che hanno poca ram, quindi ad esempio macchine con 4 giga di ram sicuramente ma anche macchine con soli 8 giga di ram potranno sicuramente beneficiare da questa impostazione. Se invece hai una quantità di ram più elevata e quindi a partire da 16 giga in su potrai scegliere il risparmio di memoria bilanciato attivandolo tramite quest'altra opzione qui che tra parentesi è quello che google consiglia anche se io ho trovato migliori prestazioni attivando sempre il risparmio massimo. Un altro ritocchino lo andrei a fare sulla voce sistema, questa qui, su cui andrei sicuramente a disabilitare la voce continua a eseguire applicazioni in background dopo la chiusura di Chrome in modo da risparmiare memoria nel momento in cui Chrome viene chiuso e successivamente andrei ad abilitare allo stesso modo usa l'accelerazione grafica quando disponibile in modo da sfruttare tutte quante le risorse del nostro pc. Dopo aver attivato questa voce clicchiamo sul pulsante riavvia e Chrome si riavvierà con tutte quante le impostazioni come le vogliamo noi. E a questo punto arriviamo alla parte sugosa ovvero quella in cui andiamo ad attivare alcune interessantissime opzioni nascoste di Chrome. Accediamo a queste opzioni digitando nella barra degli indirizzi in alto Chrome due punti doppio slash flags. Puoi scriverlo esattamente come l'ho scritto io dopodiché dovrai semplicemente premere il tasto invio sulla tua tastiera. Verrai subito avvisato del fatto che si tratta di funzionalità sperimentali che vanno usate con estrema cautela. Il mio personale suggerimento è quello comunque e in ogni caso di avere sempre pronto un punto di ripristino. Il primo flag che voglio mostrarti si chiama Zero Copy Resterizer. Si scrive in questo modo e potrai inserirlo direttamente in questa barra di ricerca in alto. Come vedi ti comparirà immediatamente la relativa voce di flag che potrai andare ad attivare cliccando sul menu a tendina prima e poi sulla voce enabled. A questo punto il flag sarà stato abilitato e questo flag ha una funzione importantissima. Va infatti a spalmare il carico di lavoro che fa Google Chrome quando lavora tra la CPU e la GPU rendendo non solo più veloce tutto quanto il nostro browser ma anche graficamente migliore la renderizzazione delle pagine. In teoria dopo aver inserito ogni flag dovrai premere sul pulsante Riavvia. Io in questo caso non lo faccio semplicemente perché voglio inserire più flag e quindi riavvierò una volta sola al termine. E veniamo al secondo flag che si chiama Parallel Downloading. Si tratta di un flag che abbiamo già visto in precedenza che serve ad accelerare moltissimo la nostra velocità di download dei file. Molto probabilmente se hai visto il vecchio video sull'ottimizzazione di Chrome lo avrai già attivato ma attenzione a ricontrollarlo perché in alcuni casi quando viene aggiornato Google Chrome va a cancellare le impostazioni dei flags. Andiamo nuovamente ad attivarlo dal menu a tendina, clicchiamo quindi su Enabled e siamo pronti a passare al terzo flag. Questo flag si chiama Smooth Scrolling e serve a migliorare la fluidità di scorrimento delle nostre pagine in senso verticale ed orizzontale migliorando tantissimo la qualità della nostra lettura. Andiamo quindi ad attivarlo e facciamo finalmente clic sul pulsante Riavvia per applicare tutte quante le modifiche. Benvenuto nel tuo nuovo Chrome aggiornato ed ottimizzato. Quelli che ti ho appena mostrato sono i settaggi che utilizzo sui miei computer e generalmente imposto anche su quelli dei miei clienti. Ovviamente ci sono una serie di possibili varianti che possono essere messe in atto e se hai qualche tua opinione in merito, qualche richiesta, qualche domanda oppure qualche suggerimento ti prego di farmelo sapere nei commenti se ne hai voglia, dato che come sai rispondo sempre molto volentieri. E sempre se ne hai voglia un'altra cosa di cui ti pregherei è quella di seguirci sulle varie piattaforme, quelle che naturalmente utilizzi abitualmente e ti sarei grato in particolar modo se ti iscrivessi al nostro canale Il Lato Oscuro, il canale secondario a Uma Uma dove ci rifugiamo in caso di necessità. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi vedono una lista piuttosto nutrita tanto che come al solito ho utilizzato il mio mitico foglietto perché abbiamo da ringraziare Vincenzo Spilotro, StormX, Michele Garozzo, Loris Lombardi e Augusto Bonanni che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento al nostro canale e quindi con vero piacere che vi do il benvenuti o il ben rimasti a bordo della community dei gentiluomini. Ma attenzione, un altro ringraziamento specialissimo va a Massimiliano Fratticelli che si è sì abbonato ma in qualità di distinto gentiluomo ed è quindi con estremo piacere che mi tolgo ancora una volta caro Massimiliano il cappello farlocco davanti a te. E non abbiamo finito perché ci sono dei ringraziamenti anche per Fabio Mobilia, Marino Zorzet, Unknown Pleasure, Giovanni e Luca Geromin che con i loro generosissimi super grazie hanno voluto contribuire alla vita della nostra community. Un ultimissimo ringraziamento ma non meno importante è quello rivolto direttamente esclusivamente e proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima! Iscriviti!